Come riconoscere la traccia lasciata da una tartaruga marina sulla sabbia quando nidifica? Quali sono i comportamenti corretti per non disturbare l'animale mentre cerca il luogo più appropriato per deporre le uova? Come evitare di arrecare danni al nido? Questi sono soltanto alcuni degli argomenti che saranno trattati nel corso della giornata di informazione a favore degli operatori balneari organizzata dalla rete I Lidi del Parco, Legambiente, WWF, FIBA, Confessercenti Campania, dal comune di Camerota e dal network per il monitoraggio delle nidificazioni di tartaruga marina in campagna coordinato dalla stazione zoologica Anton Dorn. La campagna ed in particolare il Cilento e l'area del Mediterraneo occidentale dove la nidificazione delle tartarughe marine avviene con maggiore frequenza, l'unica in cui ciò si verifica regolarmente fin da 2012. Quella passata è stata l'estate dei record con ben 32 nidi censiti di cui 27 lungo le coste cilentane, da Ascea ad Acciaroli, da Marina di Camerota a Palinuro, spiega Sandra Otscheid, coordinatrice del network di monitoraggio delle nidificazioni di tartaruga marina in campagna. Un risultato eccezionale ottenuto nell'ambito del progetto finanziato dal Parco nazionale del Cilento, Vallo di Viano e Alburni, è reso possibile anche dal costante sostegno ricevuto dalle amministrazioni locali. L'obiettivo per quest'anno, spiega l'organizzatore Raffaele Esposito, è quello di potenziare ulteriormente la rete a supporto del network di monitoraggio delle nidificazioni nel Cilento. Crediamo fermamente che le istituzioni, parco e denti locali debbano investire concretamente nelle politiche di tutela che rappresentano poi il miglior viatico per l'ecoturismo fondamentale per azioni di marketing territoriale, integrando gli operatori turistici e balneari da sempre attenti alle tematiche della sostenibilità e della protezione della natura, attraverso la progettualità I Lidi del Parco, una progettualità territoriale ormai consolidata ed emulata su altri territori a livello nazionale. Dall'ente parco assicurano che il progetto in atto con la stazione zoologica Anton Dorn continuerà anche negli anni a venire per garantire le azioni di monitoraggio delle nidificazioni di tartaruga marina sulla costa cilentana. Le tartarughe a Camerota tornano ogni estate ormai da anni e nidificazioni e avvistamenti ce ne saranno sempre di più per una serie di motivi, molto semplici, la qualità del mare, la protezione della biodiversità, l'educazione dei cittadini e dei turisti rispetto ad alcune pratiche ambientali. Sono ormai aspetti radicati e peculiarità che vengono difesi ogni giorno, aggiunge Mario Salvatore Scarpitta, sindaco di Camerota. Da parte dell'amministrazione comunale c'è un impegno costante e lo dimostrano i fatti.